Questo programma è offerto da Europa Elettronica, Fiordalisi, GZ International e GZ Arreda. Il negozio di scarpe Don Diego vi aspetta in Via Libertà 91 a Medicina, con tante novità uomo e donna. Scarpe, sandali e accessori con tanti colori per l'estate. Sabato 28 ottobre a Faitano, San Marino, si darà la prima edizione di Suave Adventure, una moto cavalcata dedicata alle moto da enduro. Oltre 200 km da percorrere e paesaggi mozzafiato. Non mancare! A LITTLE DEEPER A LITTLE DEEPER A LITTLE DEEPER A LITTLE DEEPER 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 A LITTLE DEEPER A LITTLE DEEPER Pondero 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti